Dopo tanto tempo, dopo 16, mi sono messo, mi sono messo tranquillo, 16 o Ivane, 16 o... Non cantare vittoria tutto presto. Ci immagino che mi toglie i soldi. Io mi spavo il testo. Organizzazione, che bello sono, eh? Adesso cos'è che devi fare? Da quale cazzo di PC sono andato poi io? Mi sono andato dal PC del secolo, se io... Dove è il PC normale, Ivan? Sì, ma dove? Ho detto che ho un'NBA? Ecco l'NBA. Non, non mi fa usare il PC, Ivan. Ah, ecco. Sì, 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 sì. È il momento della vita, Ivan. Se mi togli i soldi ti ammazzo. Tolo giù. TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN ahahahahah non lo vuoi fare sul mio account? che bello ci provi a farlo pure sul mio account per favore toh ma ti rimane all'infinito? no ah quando spegni ti si leva puoi farlo pure sul mio account? toh addiii ma così li faccio farlo così doamne toto 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 hai sa ti rimpe tutti i garaji ce sa lascati aici? ce le fata? finalmente e un mani frit sa duce pomla in grossoi daca mâine nu isi la scoala domanii nu o isi la scoala hai sa vece bătarul, dar nu mai intreo oh, mi senti? vai 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 su mio account dai si un caz dai tu mi lasci in pace e quando è che me lo fai prea me? guarda adesso hai seguiti passaggi si ma non lo sopiam perchè lui non ha un caz se lo dovrei fare due volte non ha un caz non ha niente non ne posso fare niente perchè? perchè non hai soldi come non ho soldi ce li hai soldi quanti soldi hai? 500.000 tipo e cazzo compro con 500.000 beh mi compro una delaxo 2 poi la rivendo la delaxo io mi vendo qualcosa così la rivendo cosa sa ma ma scusa ma anche se ho tipo mille dollari io ne posso comper la stessa cosa sì certo se hai un micono 12 compie le cose che costano mille dollari quando ti dicevo tini di soldi di soldi di soldi oh E poi vedo io cosa faccio, perchè sono intelligenti. Come lo fai domani? Tony. Mi lasci in pace? E quindi ora io per ogni garage devo andare a spostarle? Ma perché? Sei sicuro? Mi guarda la nuova da spostar un botto. Che palle però. Grazie a tutti. Sì, finalmente, grazie mille, Ivan. Però lo volevo pure io per farlo. Finalmente sono riuscito a farlo, 16 ore, Ivan. 16 ore per far sta cazzata. Anche se per te è inutile che già tu sei miliardario. Però almeno so che non posso, non devo più, non devo più fare glitch per duplicare. Capito? E' ovvio. Sì, infatti. Domani è diventato più. No, dipende. No, dipende. No, dipende. No, dipende. No, dipende. Vabbè tanto lo so che non me lo farei. Tu non hai manco dove mettere le macchine. Quanti garage hai? 3. 3 da quanto? Da 5? No. Da 6? 2 da 10, 1 da... Sì, tu da 10. Ma stai zitto, non hai manco uno da 10. 2 da 10, 1 da 6. Io ti ho detto. Ho la base operativa che non so quanti posti ha. Sette. Ho visto? Ho visto? Ho visto? Ce le ho un bel po' di posti da mettere. Ho visto? Ho visto? Ho visto? Ho visto? Ho visto? Ho visto? Oh, non ho visto le cuattro le gare. Ho visto? Ho visto? Ho visto? Ho visto? Ho visto? Dai i soldi prima. Eh? Ce... Vabbè, non c'è stato. Stanno testando il mio micro, sapevo già che non mi faccia niente. Io che ci speravo... Ah, che f***a bastardo. Quello che ti metti. Ah, che f***a. E' proprio che ci speravo. Iniziamo una volta che ci avrebbe fatta. Adesso mi aiuta. Finalmente avrò pure io qualcosa su GTA. E gliele posso sbattere in faccia sola. Oh, cazzo. Ma ti ho detto che non ti aiuto più, quindi non mi scassa. Cosa? Ti ho detto che non ti aiuto più. Perché non mi ascolti. Qua sono mi ascolti. Ti ho detto che i soldi c'è le OVM. C'è un tipo per 100.000 dollari. Si, ti compro i faggi e poi li vendi, ok? Quelli faggi? Quelli da 5.000. No, mi compro quell'auto là che so io. E la rivendo sempre per 200.000 dollari. E così i soldi salgo e mi posso comprare auto un po' più costose. E poi mi dice Stefano perché non gioco più al città 5.000. E poi mi dice Stefano perché non gioco al città 5.000. E perché non faccio soldi. E perché non faccio amici. E perché non faccio amici. C'è il cont sales e l'auto si anche qui che signifle in solo. E noi per 3.000 duelle Ghost hub. Vomito. Vomito. Grazie. Haute-mi. Che cos' tu n'ai pe? Tra-te! Si-i pur un remez de nicio ori. è a 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 E' un po' di mare... ...c'è un po' di mare... E' un po' di mare... oh mio dio ho venti bombusca ho venti bombusca oh mio dio e i 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 ci ho messo 16 ore per farlo ma perché mettono guide di merda non è colpa mia che poi stefano non faccio nomi però non sono stati neanche in grado di me di farti vedere il punto preciso dove il peyotele sulla mappa c'è potevano le opzioni e dicevano oh guarda qua c'è il peyote testa di cazzo ho capito che molti lo sanno dove il peyote io non lo sapevo no sono coglioni Come on! Volevano essere qui, mi volevano prenderla nel culo. Volevano essere qui! 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 La scuola è difficile giardire! Una scuola che acceriva tutte le tueMy documento! La chè? Sì! Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. sembra incinta. guarda. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ho comprato. ho comprato. ho comprato tutte le armi. a tutti. Certo. Nico Accardi. Iscriviti e ricambio. manda link. non so. Lasciami il link in descrizione. con il commento. con il commento. non lo farò mai più nella mia vita. te lo giuro. se lo chiede. si... che ci è. la mia vita. guarda. guarda. guardata. guarda. guardata. guarda. Nico Accardini, dimmi il nome del tuo canale, o sono un ragazzo, mi ha detto che se si iscrive a ricambio, ti faccio guadagnare 15 iscritti Nico, ah ok ok, vado sui commenti, vado sul tuo profilo e mi scrivo, no sono in live, tranquillo Nico, guadagnerai 15 iscritti Oh my God, I got some great projects in here Jesus, psychopath driver, whatever That'll look great on you Give me, give me, give me, ah, give me, give me Madonna Ivan, tutto il giorno può provare il suo ragazzo di cosa Certo A me che non funziona, stiamo scherzando Io l'ho detto, o lo faccio o lo faccio Certo Si 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 io posso vedere che ti prendi questo No ma io tanto ce l'ho fatto qua stiamo ancora da vendere, sono a posto, io ne ho ancora 60 tipo, sono a posto io, di più, di più, di più, di più. Pensa che sono 20 bombusca, cento, centoventi deluxe, dieci oppressor, si roba più basso operativo è bunker. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se non puoi trovare la tua size, lo comprometto Sì, due. Grazie a tutti. Come? Sì? Sì, già fatto. No, ancora no. E poi che devo fare? Devo... E poi? E poi? Devo vett ut. oh damn oh 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 Sì, è pronto per un trame? Vediamo cosa ti piace. Ciao Simone. Ma voi non dormite a quest'ora ragazzi? Cioè io ho capito... No, non voi. Cioè io ho capito. Ok Simone. No, no, no. Ma che stiamo scherzando? No, no, no. It's fine. Yeah. Fatto Simone. Sì. Ok Simone. No, non è... Quasi sta... Ivan. No, vai da matto. grazie per arrivare oh ma non è che mi ha toccato non è di capire visto io io ho tutto simone ma non le puoi comprare quella è un'altra cosa io ho comprato cangiali, jetpack, rcv, ho comprato tutto ho comprato tutti i veicoli speciali o io ho comprato tutti i veicoli pegasus che si si ma vediamo no no niente oh Ciao Luni Oh raga ma tutta sta gente A quest'ora La camera non tosmite Insta La camera non tommo La camera non tommo Grazie. 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 Il money freeze in pratica è un glitch. Che ti puoi spendere quello che vuoi. I soldi non ti scendono. Grazie. 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 le auto dove finiscono quando permuti un garage con un altro ti si spostano automaticamente io Tony Mikao dimmi Ivan un altro sono hango 72 su questo personaggio sul alto 104 mi è sbagliata la deluxe viva mi è sparita la deluxe no con la base operativa no soltanto volevo entrare con con la deluxe nella base operativa no 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 il titolo leggi il titolo come qui come qui no 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 che si bloccano i soldi posso spendere quanto voglio e non scendo ok grazie mille per tutto finalmente l'ho fatto anch'io a più tardi a più tardi a più tardi a già quindi a più tardi a più tardi a più tardi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho finito di spostare tutto. No se esco di nuovo in mini cazzo. 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 Perché mi hanno dato le stelle? È il mio hangar questo. No se esco di nuovo in mini cazzo. Io me ne vado da qua dentro. No se esco di nuovo in mini cazzo. 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 in mini cazzo. No se esco di nuovo in mini cazzo. No se esco di nuovo in mini cazzo. Siamo tra incessa la Repubblica Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco, non c'è più un malefise Buonanotte, assi Grazie a tutti 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 Hey Grazie a tutti No, non c'è qui ecco 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 ecce ecco 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 Sì. Grazie a tutti. E niente, 16 ore ragazzi per fare un money freez del cazzo, ma ne basta la pena perché non lo farò mai più. Vaffanculo. 16 ore per fare un money freez, porco Dio. E l'ha spiegato meglio uno spagnolo che un italiano, guarda. Mamma mia, mamma mia. Vabbè. Buonanotte a tutti. Maffanculo. Tiene, tiene, tiene. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Grazie a tutti. 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 Sì. Grazie a tutti. Andrei. Yeah. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.